Saranno 6 milioni di euro i fondi in arrivo dal Mise a Bari per la costruzione delle case e delle tecnologie. Una misura firmata dal Mise che nel complesso mette a disposizione in tutto il paese 25 milioni di euro. Il progetto del comune, chiamato Bari Open Innovation Hub, ha ottenuto l'adesione di partner pubblici e privati, oltre al supporto di Anci, Arti Puglia Sviluppo, Fiera de Levante e Politecnico. Con questi fondi la città di Bari si candida a cambiare veste e diventare un centro di riferimento a livello nazionale e internazionale, offrendo il proprio territorio per sperimentare sul campo l'utilizzo di droni e veicoli di nuova generazione in ambito urbano. La Casa delle Tecnologie si svilupperà su tre poli, l'ex Manifattura Tabacchi, sede del CNR di Porta Futuro, dove sarà realizzato l'atelier dell'innovazione, un luogo dove esporra i prototipi e le innovazioni prodotte e attivato il Contamination Lab. Poi l'area di sviluppo industriale, dove sarà ubicato un incubatore di imprese e laboratori di ricerca. Infine la Fiera de Levante, scelta per la sperimentazione sul campo, il Living Lab. L'assessore comunale alla trasformazione digitale, nonché vice sindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, ha evidenziato quanto l'innovazione della proposta riguarda temi cruciali per la città del futuro. Logistica, mobilità e trasporti sono settori industriali, trainanti per l'economia del territorio e per questo progetti che devono sostenere le imprese che stanno crescendo proprio in questa direzione.